La scuola si appresta a riaprire i battenti il prossimo 24 settembre e così vanno avanti i test sul personale scolastico in Abruzzo nell'ambito dello screening nazionale per contenere il contagio da Covid-19. Finora nella nostra regione i test sierologici effettuati sono 4.439, un dato che soddisfa l'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri. Va precisato che si tratta di dati comunque sottostimati, puntualizza l'assessore, in quanto non tutti i medici di medicina generale hanno ancora trasmesso i loro report aggiornati alle ASL di competenza. Questo significa che l'adesione degli operatori allo screening è molto elevata e ci permetterà di affrontare con maggiore sicurezza l'avvia del nuovo anno scolastico. Nel dettaglio, nella ASL Avezzano sul Monal Aquila i test eseguiti sono stati 1.070, di cui 844 effettuati dai medici di medicina generale e 226 nei distretti sanitari di base. Nella ASL Lanciano-Vastocchieti 1.699, di cui 1.033 dai medici e 666 nei distretti. Nella ASL di Pescara 880 test, di cui 625 dai medici e 255 nei distretti. Poi nella ASL di Teramo 790, di cui 305 dai medici e 485 nei distretti. Da questi test 49 sono le persone risultate positive, così distribuite. 10 nella ASL di Avezzano sul Monal Aquila, 17 nella ASL Lanciano-Vastocchieti, 10 nella ASL di Pescara e 7 in quella di Teramo. Per loro sono scattati i protocolli di sicurezza e la contestuale presa in carico da parte del sistema sanitario regionale. In Abruzzo sono stati distribuiti inoltre 29.050 kit per lo screening, 7.050 nella ASL Avezzano sul Monal Aquila, 8.125 nella ASL Lanciano-Vastocchieti, 7.150 in quella di Pescara e 6.725 nella ASL di Teramo. Ci si sottopone al test sierologico su base volontaria, ricorda Laveri, rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o, nel caso lo stesso non abbia aderito alla campagna, al distretto sanitario di base afferente al comune di residenza dell'operatore. Tutti gli operatori scolastici che volessero partecipare allo screening avranno tempo, fino al 17 settembre, per effettuare il test. Grazie a tutti.